Sicuramente quando è nata MySpot non aveva nella dimensione, nell'estensione che ha oggi e nell'importanza che ha oggi nel mercato e nelle soluzioni che portiamo. Quando è nata è nata come un'idea, un'idea anche di mettersi in gioco e differenziare. È nata perché noi eravamo già da tanti anni, FM già da 15 anni portava il valore delle proprie soluzioni alle grandi aziende, nei loro patrimoni immobiliari, come gestire i loro edifici e quindi tutta quella cultura, quell'innovazione, quei processi erano solo per i grandi attori del mercato che potevano permetterselo. MySpot nasceva un po' come contrasto, cercare di dire invece di continuare a guardare solo dentro gli immobili dei grandi proprietari, cominciamo a mettere in discussione questa cosa e guardiamo la città. Estendiamo il nostro profilo, il nostro punto di vista e guardiamo come le infrastrutture all'interno della città permettono di abilitare nuove relazioni, nuovi momenti, stimolare esperienze differenti per il lavoratore medio che però può essere il dipendente della grande azienda ma anche il professionista libero professionista piuttosto che semplicemente lo studente. Ecco questo era il concetto, ogni luogo della città può essere il nostro posto, il posto che sentiamo nostro, quello dove tutto funziona alla perfezione. devi avere la possibilità di scegliere, devi avere la possibilità di cambiare le esperienze che vuoi vivere, che puoi vivere e che ti aiutano a modificarti e a crescere.